Come la vostra fede si sente coinvolta in questo cammino di Expo e soprattutto della firma della Carta di Milano? È un momento importante perché l'intero pianeta sta soffrendo di violenza anche nei confronti della natura e quindi ci sentiamo molto impegnati. L'induismo è una religione molto collegata alla natura perché fa parte di noi e quindi dobbiamo proteggerla ed aiutare a migliorare il nostro pianeta.